Fagor Automation Fagor Automation, nell'automazione di macchine e utensili, è presente da più di 25 anni con sistemi CNC, motori e azionamenti. Impegnata in un processo di costante innovazione e sviluppo, ha raggiunto l'eccellenza in CNC, diventando un riferimento mondiale in controlli numerici. Attualmente dispone della più ampia gamma di CNC, motori, regolatori digitali e accessori, così come del personale tecnico specializzato, in grado di soddisfare le necessità più complesse, relative all'automazione di macchine utensili. Fagor Automation produce encoder lineari e rotativi con tecnologia ottica, che si distinguono per l'elevata qualità e l'eccellente comportamento in condizioni avverse. Data l'elevata qualità di questi prodotti, è necessario che la produzione sia eseguita in locali puliti, con condizioni particolari per la stabilizzazione della temperatura, della pressione ambientale e dell'umidità, così come l'isolamento in caso di vibrazioni. Fagor Automation sviluppa e costruisce macchine per produrre cristalli graduati per sistemi di misura lineari e rotativi, così come impianti per la produzione dei master. Ciò la rende leader nel panorama internazionale di impianti e processi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS